Hai, allora? Tutto bene, volevo fare i complimenti Antonella perché ho sentito che presenterai un musical che a me è molto caro, Mary Poppins. Sì. Conto di esserci sicuramente. Assolutamente. Sosteniamo questa associazione che è Onlus, attendiamoci di Don Valerio, meravigliosa, queste ragazze stupende che io ho visto un po' di prove. Qui nel Teatro Cilea poi il 16, 17 e 18 e il 16 e il 18, poi ne parleremo anche in altre occasioni la sera. Invece io ho qui il famoso, grande, unico Davide De Stefano che se dico così dicono le persone ma chi è? Ma se dico Cesare? Eh sì, forse sono più conosciuto, più identificato con il nome di Cesare. Davide mi chiamano solo gli amici stretti, ormai sono destinato ad essere chiamato Cesare, ma va bene così comunque. Cesare, famosissima gelateria, il famoso chiosco verde da Cesare dove uno dice la sera che facciamo andiamo a mangiarci un gelatazzo da Cesare e ci sta tutto. Questo famoso chiosco che nasce da quale anno? Il chiosco risale al 1920, è stato acquistato dalla famiglia di mio papà nel 1940, quindi dal 40 che ce l'abbiamo noi di famiglia e io sono la terza generazione e mio figlio è la quarta generazione. Che si chiama tuo figlio Cesare? Mio figlio si chiama Cesare, mio nonno si chiamava Cesare, mio papà pure Cesare, negli anni 70 c'era una legge che non consentiva di mettere lo stesso nome al figlio del padre e quindi ho saltato, io sono l'unico impostore in sostanza, lui che non si chiama Cesare. Neanche come secondo nome Cesare? Ma neanche, neanche come secondo. E' l'ecisione che conferma la regola, Cesare oggi è una realtà conosciuta in tutto il mondo perché chi viene a regge sa che c'è Cesare. Assolutamente. Tra l'altro mi chiamano tutti Cesare. Quindi non cambia nulla. Come se ti chiamassi Cesare? Infatti, io sono onorata perché per un mese posso dire che ti avrò ospite radiofonicamente, telefonicamente, poi se vuoi venire a fare una cappatina qua non c'è problema, però ogni domenica avremo questa chiacchierata dove racconteremo quelli che sono i progetti importanti. Io volevo anche ricordare che oltre al chiosco di Cesare hai aperto un altro punto importante. Sì, è un'evoluzione del concetto di gelateria perché il chioschetto va solo coni da sport, vaschette e brioche, insomma è molto piccolo, quindi è nato così e rimarrà sempre così. Abbiamo voluto dare un maggiore servizio alla clientela allargando, inserendo delle torte, del mignon gelato, delle granite. Della yogurt, dei centrifugati che sono buonissimi, che ieri ho assaggiato, devo dire la verità, è fantastico, quindi questo progetto che può anche, per chi ha voglia di sedersi e un po' stare a assaggiare qualcosa, è sicuramente un ottimo progetto. Sì, è un locale sicuramente più vivibile, più grande, quindi è un completamento del chiosco. Abbiamo voluto dare un maggior servizio alla nostra clientela che lo richiedeva. Io una cosa poi adesso invece, che vogliamo concentrare, questo progetto che è nato e che ti fa onore, però vorrei che ne parlassi proprio tu perché io ho accennato, del progetto italico, che non è solo un gusto, ma è un progetto che unisce l'Italia, che unisce i gelatai, come si dicono gelatai, gelatieri? E allora si dice gelatieri, è la stessa differenza tra giornalisti e giornalai, il gelatiero è quello che prepara il gelato con conoscenze tecniche, diversiologia, il gelataio è quello che semplicemente lo serve al banco. Ok, quindi dei gelatieri questi… Non ci insegniamo perché alla fine io sono gelatiere e gelataio, nel senso che faccio entrambe le cose, quindi non è un problema. Ok, e quindi parliamo di questo progetto italico, come nasce e perché nasce? Allora, l'Italico nasce a Rimini, al Sigep, alla fiera internazionale del gelato e della pasticceria artigianali, quest'anno a gennaio. E' stato un gusto realizzato da tre gelatieri che sono gli ultimi tre gelatieri che hanno vinto la migliore gelateria d'Italia degli ultimi tre anni e quindi noi l'ultimo anno, poi Guido Zandonà della gelateria cioccolate di Padova e Francesco Dioletta, un altro maestro gelatiere bravissimo dell'Aquila. E questo è una persona squisita, ha avuto la gelateria distrutta dal terremoto e è riuscito dopo un po' di anni a ricostruire la gelateria, a riassumere tutto il personale che aveva messo in aspettativa e assumendo altre nuove persone. Quindi per capire ecco l'allevatura di questi personaggi, di questi soggetti. Di andare oltre e di andare anche molto… di superare questi ostacoli, queste calamità. E allora noi cerchiamo di fare gruppo e abbiamo creato questo gusto a sei mani che all'inizio era semplicemente un insieme di ingredienti di nord, centro e sud assemblati per dare l'idea di un concetto di unione, di collaborazione. Quindi è nato Italico che era un gusto alla ricotta, della ricotta dell'Aquila e dei fichi dotati di Villa Piana di Cosenza che ho preparato io personalmente con un altro maestro calabrese, Gaetano Vincenzi della gelateria Barbarossa, di Villa Piana di Cosenza. Dove ci sono queste vecchiette che intrecciano questi fichi infornati, quindi è bellissimo. Tradizione pura. Portiamo avanti le nostre proprie tradizioni. E poi il torcolato di breganza è portato da questi ragazzi di Padova con cui sono stati macerati i fichi. Ecco, assemblando questi tre ingredienti è venuto fuori un gelato. Da dove nasce lo slogan, questo gelato spacca ma unisce l'Italia. La presentazione dell'evento è stata fatta da Alex Ravelli Sorini che è un docente dell'Università di Gastronomia e praticamente fa il gastrosopo. Io non sapevo esistesse questa... Il filosofo della gastronomia? Esatto, è un docente di questa università e ha presentato l'evento quando ha assaggiato il gelato... E' rimasto? Sì, ha detto ma questo gelato spacca, spacca come gusto, però il concetto è che deve unire l'Italia perché la unisce con gli ingredienti. Da lì è nato questo slogan e poi abbiamo portato avanti questo concetto. E allora in cosa consiste il concetto? Italico è un gusto che momentaneamente è questo, però il concetto... Che può cambiare. Esatto, è quello di promuovere i valori di fratellanza, di unione, di collaborazione tra le varie associazioni, non solo la nostra dei gelatieri, tra tutte le varie associazioni, per far capire alle persone che solamente collaborando si può migliorare la situazione. Quindi unione, l'unione fa la forza praticamente... L'unione proprio nel vero senso della parola, perché ci si confronta, si cresce, si creano situazioni, si creano sinergie, soltanto così si può andare avanti e ne usciremo fuori vincenti da tutte queste situazioni negative che ci stanno veramente massacrando. Molte volte sentiamo il fatto di poter essere tutti uniti, poter vincere queste battaglie contro chi vuole mettere un po' tarpare le ali a questi vari progetti, no? Infatti, noi infatti cerchiamo di coinvolgere tutti i professionisti che vogliono aderire al nostro progetto. Io voglio su questo sottolineare, adesso ci stanno ascoltando, quindi io parto, ci ho ascoltato attraverso il canale Facebook, la nostra app e vi dicendo, però la parte ionica o le varie parti della Calabria che volessero avvicinarsi a questo progetto, come devono fare? E noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama proprio Italico e se qualcuno ha degli ingredienti che vuole valorizzare, perché Italico vuole valorizzare gli ingredienti dei vari territori regionali, dei vari territori locali, portandoli avanti, collaborando tutti insieme e facendoli conoscere intanto a livello nazionale, ma successivamente anche a livello internazionale. Noi già abbiamo delle prenotazioni a settembre per portare Italico a Miami, abbiamo una tappa a Londra e una tappa in Bologna, quindi abbiamo una scaletta molto interessante. Io me vengo con te, guarda, mi mettete in una valigia, non c'è problema, faccio la spaggiatrice ufficiale. No, devo dire che abbiamo avuto un riscontro pauroso, perché la gente è stanca di questi messaggi negativi, di tutte queste cose brutte, quindi quando vai a lanciare una cosa positiva che va a unire e non a dividere, viene accolto a braccio aperto e quindi abbiamo, come si suol dire, sfondato una porta aperta. E poi se riusciamo con questo a valorizzare anche i nostri prodotti e ad aiutare le nostre economie che, essendo povere, alla fine ci basta poco per pesargli un minimo di sviluppo. Basta veramente, devo dire la verità che… Siamo la chiusura del cerchio, ecco. Ecco, quindi queste sono veramente una bellissima… Io già ho fatto ieri una chiacchierata con te e la cosa che mi fa molto piacere è che durante il mese di mato, ogni settimana, parleremo di vari progetti, di quelli che sono, ma non solo a Reggio Calabria, ma chi vuole unirsi a questa tua giusta causa e che, devo dire, ti fa onore, il fatto di unirvi… Ti faccio un esempio, Italico a Pizzo, da un nostro caro associato, è diventato un tartufo, è diventato tartufo italico. Pasquale Monteleone alla bottega del gelato di Pizzo ha realizzato una cupola di ricotta con un cuore fondente di fichi di Villapiana e tutta ricoperta con una granella di cannolo. Non ti voglio esagerare, magari sta andando anche meglio del tartufo di Pizzo, voglio dire, perché è una novità incredibile. Poi la novità per questi gusti particolari, comunque i prodotti, la qualità, che è poi la cosa principale, anche la qualità delle materie prime, quindi il livello è altissimo, il gusto poi esplode in bocca e lì veramente c'è molto poco da dire, Davide, se mi permetti, perché quando la qualità… No, indico tutti coloro che vogliono far conoscere dei prodotti tipici particolari di contattarci, che magari cerchiamo di fare qualche prova e cerchiamo di sviluppare qualche progetto un po' più articolato. Perfetto, quindi ricordiamo la tua pagina, la pagina di Italico su Facebook, quindi possono tranquillamente contattarvi lì tutti coloro che vogliono, come dire, avvicinarsi a questa realtà, a questo progetto. E poi la settimana prossima parleremo anche di altri progetti che io credo che tu hai in cantiere, quindi avremo modo ancora di fare un'altra, sempre alle 11 e mezza, lo faremo per tutta la settimana, per tutto il mese di maggio, quindi anche il 14 che è la festa della mamma, quindi inventati qualche dolce particolare domenica. La mamma è sempre la mamma, quindi… Assolutamente, devo dire. Poi, insomma, parleremo anche dei valori nutrienti durante questo mese, dei valori nutrizionali, scusami del gelato che effettivamente… Siamo di far capire che il gelato è un alimento e non è solo un dessert e quindi che va mangiato come un pasto completo, come un alimento… Sì, me ne parleremo… Poi io ovviamente quando vorrei venire qui in studio a merito di Portosalvo sei veramente… Ovviamente con una vaschetta di gelato, eh, te lo dico… Verrò gelato munito, non auto munito, gelato munito. Io so che tu sei da questa mattina che stai lavorando, no? Da che ora sei sveglio? Allora, io sono sveglio dalle 5 del mattino, sono andato a dormire circa al 1 e mezzo, quindi… La sonno molto lunga… Ti sei fermato un attimo, gli facciamo una telefonatina… No, ormai sono abituato. Oggi è domenica, abbiamo preparato parecchio, fa caldo al Reggio anche se c'è un luce di novento… Anche qua, devo dire la verità, stiamo iniziando a suonare una bella sauna. Allora, io ti voglio invitare, parlavamo del progetto del musical di Mary Poppity, io ti voglio invitare, se tu riesci ufficialmente, Silvio se me lo concedi… Al musical che viene fatto il 12, 13 e 14 a Bova Marina, Romè e Giulietta, sono di questi ragazzi al teatro Don Bosco… Molto bello, io ti invito ufficialmente, Silvio anche qui, lui mi pare anche tu regista, no? Sì, io registeggio, sì, sì, sì. Quindi sei ufficialmente invitato, ti vogliamo sulla Ionica, Davide, ti vogliamo assolutamente… No, cercherò di esserci, comunque sto notando che vi state dando da fare, anzi ci stiamo dando da fare… Sì, dobbiamo unirci, esatto, la Calabria, la bella Calabria, la parte Ionica, la Tirrenica, ma tutto il bel Sud uniti a creare delle belle realtà perché ci stanno. Tra le altre cose, tu te ne vieni qua, mi porti un gelatino di Cesare e poi ce ne passiamo al Cristal. Come no? Sono degli amici miei, abbiamo anche un nostro associato lì che lavora lì e collabora con noi, quindi noi siamo aperti a tutti. E questa è la cosa bella che… La cultura è quella dell'accoglienza e dell'apertura, non dell'accoglienza. La cosa bella è che non c'è e c'è una sana competizione ed unione fra gelatieri, la voglia di far esplodere il gusto, l'unione e non quella di negatività. Questo ti fa onore veramente di cuore, Davide, sono onorata di conoscerti, sono onorata di averti mio sponsor in questo mese di maggio, quindi ogni settimana ci sentiremo e il Sud 95 ti lascerà la libertà di poter raccontarci e comunicarci vari eventi, anche perché l'estate sta per arrivare, sicuramente tu di progetti nei tanti. Andremo a vedere quale sarà il tormentone dell'estate magari. Un abbraccio, ti auguro una buona domenica. Ciao a tutti e in bocca al lupo per tutte le iniziative. Io cercherò di esserci. Noi ci vediamo in settimana per il mio centrifugato, dopo la palestra. D'accordo, ciao ragazzi, ciao, buona domenica a tutti. Grande il nostro Davide De Stefano che è stato ospite con noi, velocemente canzone e torniamo, perché per lei abbiamo ancora qualche altra cosa da raccontarci, ogni settimana, ogni domenica avremo, diciamo, Cesaro Davide. Vediamo, da Cesare. Da tutti da Cesare, un bel gelatino da Cesare.